Attento cugino, questa lente è lucida e senza una riga, cerchiamo di non rovinarla Ma certamente, questa nuova lente di vetro farà splendere il tuo faro come non ha mai fatto prima Ed è anche ottima per fare delle boccacce se ci guardi attraverso Carichiamo la lente E adesso andiamo sull'isola Vittvit, di cosa? Ah, non credo proprio, sarà un lento e lungo viaggio, così la mia lente sarà al sicuro Caspita, quei tronchi stanno prendendo fuoco, è meglio fermarsi La leva del freno è bloccata, non posso fermarmi, mi serve aiuto Bene, dobbiamo spegnere quell'incendio Prima però dobbiamo fermare il treno Ben detto, Marshall Rubble, afferra il treno usando il gaccio, poi lo fermeremo con i nostri freni Non avevo mai agganciato un treno prima d'ora I tuorzi Bene, freni E ora spegniamo i tronchi Auto con cannone ad acqua Grazie mille, Paw Patrol Nessun problema Non c'è di che, guarda gli episodi completi di Paw Patrol su Nickelodeon Salve cuccioli, grazie per essere arrivati in fretta I fuochi d'artificio del sindaco Hamdinger si sono trasformati in un disastro Alcune scintille hanno piccato dei piccoli incendi in tutta la città Dobbiamo impedire che si diffondano Rubble, dobbiamo sgomberare la strada con la trivella Marshall, tu dovrai spegnere i fuochi con il tuo camion dei pompieri A lavoro, Paw Patrol Mi sembra che tu debba continuare a piedi Marshall, facci strada Movimento Usa questo per muovere il cucciolo Ottimo, ma fa attenzione Non sappiamo quanti danni possono aver causato i fuochi d'artificio Devi saltare per andare avanti Salta, premi questo per saltare Ci sono molti biscottini che aspettano di essere raccolti Fantastico, stai facendo un ottimo lavoro Ci sei quasi Non dimenticare di raccogliere i biscottini lungo la strada Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Forza cuccioli Dobbiamo fare in fretta Stai andando benone Questo è un lavoro per Rabbod Cambia cucciolo Cambia cucciolo Usa questo per passare da un cucciolo all'altro Interazione Poe Premi questo dentro il cerchio per attivare l'interazione Poe Ruffa Muovi questo per posizionare la trivella Poi premi ripetutamente Niente è faticoso per un cucciolo coraggioso Forza cuccioli Dobbiamo fare in fretta Bel lavoro Raccogli più biscottini che puoi Hai trovato una targhetta Marshal Usa l'ascia da pompiere Le due asce di Marshal Usa questi per muovere le asce e tagliare gli ostacoli Eccezionale Eccezionale Wow Che disastro Devi saltare per andare avanti Ottimo lavoro Ben fatto Spettacolare Spettacolare Cambia corsia Cambia corsia Usa questo per muovere il veicolo e cambiare corsia Evita gli ostacoli Cambia corsia per evitare gli oggetti sulla strada Fa attenzione ad evitarli per non rallentare Arrivare il veicolo Arrivare il veicolo Mochitato Apparna Spettacolare Bel Spettacolare Spettacolare Buon Scettare Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ottimo lavoro, Marshall. Hai spento il fuoco. Rubble ha ragione. Sembra che manchi un idrante.